Salve a tutti e bentornati all'angolo della Libraia. Oggi parliamo dell'ultimo giallo di Margherita Ogero, La vita è un ciclis. Margherita Ogero è nata a Torino nel 1940. Ha insegnato lettere per circa 40 anni, poi nel 2002 ha esordito come scrittrice con il giallo La collega tatuata, in cui un insegnante si improvvisa detective in un caso di omicidio. Dal romanzo è stato tratto il film, se devo essere sincera, con Luciano il Tizzetto. Nel 2003 la Ogero ha pubblicato Una piccola bestia ferita, in cui ha approfondito la figura della sua professoressa investigatrice, Camilla Baudino, ed anche negli anni a seguire ha continuato a scrivere storie basate su questo personaggio. La Rai ha trasposto questi libri nell'acclamata serie televisiva Provaci ancora prof, con Veronica Pivetti. La Ogero ha comunque scritto anche numerosi romanzi stand-alone, fra cui, appunto, Il giallo, La vita è un ciclis del 2019. Massimo è un neolaureato di lettere classiche che, per sbarcare il lunario, lavora in nero presso il bar a Capulcos, nella degradata periferia di Torino. Una mattina, al momento dell'apertura, il ragazzo rinviene, nel retro dell'esercizio, il cadavere di un uomo. Il caso viene affidato al commissario Gianmarco Martinetto, di mezz'età, piacente, single. Gli investigatori si trovano a dover risolvere subito due grossi problemi, identificare il morto e capire com'è finito alla Capulcos. Dopo un primo giro di colloqui, Martinetto si confince che il figlio del proprietario, Gerry, sia in qualche modo coinvolto. Tuttavia, ha anche la netta sensazione che il delitto sia legato a traffici mafiosi illeciti. Le indagini procedono un po' a rilento, mentre la vita di tutte le persone coinvolte, dai due baristi a Martinetto stesso, subisce un grosso scossone, soprattutto in ambito sentimentale. Ad ogni modo, le intuizioni del commissario, la collaborazione di Massimo ed un solido lavoro investigativo, a base di interrogatori e soffiate, alla fine porteranno all'individuazione del colpevole. Posto che l'Augero ha un modo insolito di utilizzare la ponteggiatura, che in alcuni momenti rende la lettura piuttosto ostica, per il resto il suo nuovo romanzo può contare su uno stile ricercato, infarcito di citazioni letterarie e di espressioni in latino, ma piacevolmente contaminato da frequenti espressioni dialettali. L'intreccio giallo è ben costruito, il ritmo della narrazione sostenuto, i personaggi, sia principali che secondari, sono tutti caratterizzati alla perfezione. Le riflessioni sul mondo del lavoro e sul degrado delle periferie urbane sono interessanti senza essere pedanti, e le descrizioni di Torino, con le sue due facce, quella ricca e quella povera ed abbandonata a se stessa, sono splendide. Avevo già avuto modo di apprezzare l'Augero con i romanzi sulla prof investigatrice, ed anche questo nuovo giallo non mi ha delusa. Il commissario Martinetto potrebbe anche diventare il suo nuovo personaggio seriale, io me lo auguro. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi, ci rivediamo presto qui all'angolo della libraia. Ciao!